Ciao Pascal, anche io volevo farti i miei più sinceri complimenti per questi primi 25 anni di Capri Hollywood. Anch'io ci ho partecipato qualche volta. Devo dire che ci hai creduto tantissimo in questo programma, in questo progetto, sei riuscito a portare i più grandi attori dagli Stati Uniti, da tutto il mondo, a questa manifestazione. Poi Capri è una perla della nostra città e quindi sono contento. Io sono convinto che questo durerà molto, 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 molto tempo. Quindi questi sono i primi 25 anni, è come se fossero i primi 25 anni. Ti auguro tutto il bene di questo mondo e grazie per quello che hai fatto per il cinema e per la nostra città. In bocca al lupo per tutti. Buona vita.